Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale, spero proprio che abbiate passato una bellissima Pasqua, io da parte mia fortunatamente ho passato momenti felici e mi sono anche riposato molto. Prima di passare al video di oggi voglio salutare e ringraziare Danny, nuovo abbonato sponsor del canale, e poi Francesco, Alessandro, Antonio e Cesare, 4 nuovi abbonati alle mie video lezioni, più naturalmente ringraziare tutti gli abbonati storici che continuano a sostenere il canale. A proposito di lezioni, ieri ho postato nella sezione per abbonati una lezione sul gioco piano, noi stiamo valutando le deviazioni del nero alla terza mossa, con Beatrice tanto tempo fa avevamo visto come possiamo attaccare quando il nero gioca H6, che nella sua idea, nell'idea del nero vuole impedire attacchi simili al fegatello, ieri è stata la volta della difesa ungherese. Sappiamo che le aperture non si devono studiare a memoria, ma vanno accompagnate dallo studio, dall'analisi di partite interessanti giocate proprio nelle linee che vogliamo assorbire. Per questo motivo, oltre alla parte teorica, ho affiancato 11 partite analizzate per assorbire anche i temi sul medio gioco. Una di queste partite ve la voglio far vedere anche a voi, perché oltretutto è una bellissima partita classica da ricordare. Siamo nel 1911 e di bianco troviamo il tedesco Paul Leonard, che non è mai entrato nel ristretto numero dei numeri 1 al suo tempo, ma che con il suo gioco brillante è riuscito a sconfiggere la maggior parte dei più forti. Di nero invece il grandissimo Aaron Nimzovic, che non ha bisogno di presentazioni, fortissimo giocatore e teorico degli scacchi, autore tra l'altro del famoso libro Il mio sistema. Partiamo! Leonardi bianco apre la partita con E4, Nimzovic risponde con E5, cavallo in F3, cavallo in C6, alfiere in C4, quindi il bianco va per il gioco piano, per la partita italiana, e qui al posto di giocare alfiere in C5, che è la continuazione principale, Nimzovic gioca alfiere in E7. Questa è la cosiddetta difesa ungherese, è vero che il nero sviluppa un pezzo, ma lo sviluppa non aggiungendo nessun controllo sul centro. E allora per questo motivo, come nelle nostre linee, cosa deve fare il bianco? spingere proprio al centro, infatti Leonard spinge D4, secondo attacco sul pedone, Nimzovic lo protegge con D6, D per E5, D per E5, si arriva subito in questa linea al cambio donne. Donna per donna in D8 con scacco, solo l'alfiere può ricatturare, perché il cavallo sta proteggendo il pedone, quindi alfiere che cattura in D8, come dico nella lezione, cosa deve fare il bianco? Il bianco deve sviluppare quanto prima il lato di donna, attenzione a questa casa C2. Infatti Leonard gioca a cavallo in C3, che oltretutto protegge il pedone centrale, libera la torre, controlla questa casa D5, Nimzovic continua con cavallo in F6. Ora noi sappiamo che in questo tipo di partite, dove il centro è già semiaperto, e probabilmente si aprirà ulteriormente, la coppia degli alfieri è più importante di un indebolimento minimo della struttura. Quindi per questo motivo, ora che bisogna sviluppare questo alfiere, dobbiamo scegliere se piazzarlo in E3 oppure se piazzarlo in G5 ad inchiodare il cavallo. Ma noi sappiamo appunto che non serve inchiodare il cavallo, perché tanto non vorremmo mai cambiarlo senza donne in campo per questo indebolimento della struttura. E infatti Leonard questa idea la capisce bene e sviluppa l'alfiere in E3. Nimzovic invece sviluppa questo alfiere in G4, arrocco lungo per il bianco, e Nimzovic fa l'errore strategico di perdere la coppia per fare il danno alla struttura. Alfiere per cavallo in F3, il pedone G ricattura, cavallo in H5. Allora, torre in H che va in G1, blocca praticamente il cavallo sul bordo per proteggere il pedone. Nimzovic gioca H6, attenzione perché questo alfiere non si può muovere altrimenti arriva il cavallo in B5. La migliore idea per il bianco probabilmente è re in B1, buona anche, giocata da Leonard, cavallo in D5. Un'altra idea, ritornando indietro, poteva essere cavallo in E2 per poi spingere proprio il pedone doppiato in F4. Comunque il bianco gioca il cavallo in D5, cavallo in B8 è per poter giocare C6 e scacciare il cavallo, arriva, scusatemi, arriva F4, C6, attacca il cavallo. Ora che succede se si sposta il cavallo? Cavallo in C3, non giocata da Leonard, è comunque buona. Guardate che succede dopo cavallo in C3, E per F4, supportata dal cavallo, alfiere in D4, secondo attacco, e guardate che succede se si vuole proteggere il pedone, per esempio giocando a Rocco Corto. Arriva alfiere in E2 che attacca il cavallo, il cavallo costretto a tornare in F6, arriva E5, cavallo in D5, E6, con posizione fortissima del bianco. Invece Leonard non giocherà questa linea, giocherà un sacrificio posizionale pazzesco. Ritorniamo a questa C6 perché Leonard non sposta il cavallo, gioca invece F per E5. Allora il cavallo rimane in presa, Nimzovic lo accetta, C per D5, qui c'è prima di tutto l'alfiere sotto attacco, prima di ricatturare il bianco gioca lo scacco di alfiere da B5. E allora il re non si può neanche più arroccare, re in F8, ritorniamo indietro, e come mai? Che succede se si gioca il cavallo in D7? Arriva la cattura di torre e qui si perde proprio il pezzo, quindi per questo motivo dopo lo scacco di alfiere, Nimzovic costretto a giocare il re in F8, soltanto adesso il bianco ricattura. Fermiamoci un attimo perché il bianco ha ceduto un cavallo per due pedoni, oltre ad aver creato un pedone passato, è connesso, e dal fatto che il nero non può più arroccare e che per ora la torre non riesce ad uscire. E quindi il bianco è sicuramente in vantaggio, si apre però una fase di gioco estremamente complicata, perché Nimzovic gioca alfiere in B6, gli vuole togliere la coppia, e gli minaccia il pedone in F2, se questo alfiere si sposta, questa almeno è l'idea del nero, cosa si dovrebbe giocare? Qui si dovrebbe giocare alfiere in E2, che attacca un pezzo sospeso ed è ottima, perché tanto l'alfiere ha fatto il suo compito. Che succede se il nero cambia gli alfieri? Alfiere per alfiere in E3 con scacco, il pedone F ricattura, di nuovo è rimasto questo cavallo sotto attacco che non può tornare indietro, quindi il nero è costretto a giocare G6, ma adesso arriva la seconda torre. Guardate che disastro. La fortissima minaccia è giocare E6. Ritorniamo a questo alfiere in E2, se il nero non cambia e gioca subito G6, allora alfiere in D2 e non si può catturare questo pedone. E questo forse che Nimzovic non aveva visto, perché arriva la torre che fa spostare l'alfiere e di nuovo E6. è la mossa fortissima che dà al bianco una posizione vincente. Dopo alfiere in B6 invece in partita, Leonard gioca C4, che non è così precisa. Alfiere per alfiere con scacco, il pedone F ricattura, arriva A6. Alfiere in A4, con B5, il nero, anche se è in posizione molto complicata, quasi equalizza, e invece arriva Re in E7. Allora torre in D che va in F1 limita il movimento del Re nero e impedisce lo sviluppo del cavallo, perché se il cavallo si porta in D7, alfiere per cavallo entra la torre in settima, con la cattura del pedone. Allora torre in C8 attacca il pedone, Re in B1. Torre che cattura in C4 attacca l'alfiere, alfiere in B3 molto forte, e per questo motivo Leonard non aveva protetto il pedone, e poi oltretutto anche a proteggerlo, il pedone sarebbe rimasto inchiodato sulla colonna C, inchiodato in maniera assoluta sul Re, quindi si poteva giocare B5, e molto forte, e Nimitzovic non può spostare il Re, giocherà B5, e quindi è costretto a cedere la qualità. Ritorniamo indietro, come mai non ha spostato la torre? Perché dopo torre in C8, arriva D6 con scacco, per questo motivo non ha voluto aprire questa diagonale, con posizione vincente, e dopo torre in E4, sempre D6 con scacco, Re in D8, la torre che cattura in F7, anche se il nero prende un pedone, arriva alfiere in A4, e che cosa fa questo alfiere in A4? Con il pedone, qui si minaccia a scacco matto in 1, allora cavallo in C6 chiude questa linea, ma torre che cattura in B7, minaccia di vincere un pezzo, e ricordiamoci che il nero ha vinto solo un pedone, ne ha già persi due, cavallo in B8, torre in F7, di nuovo la minaccia di matto, torre in B5, E4, attenzione che questo non solo perderà la qualità, e quindi è per questo motivo che Nimzovic prima o poi la doveva perdere, e poi non si può muovere perché è inchiodato a difendere il matto, e poi il pedone avanzerà, Re in E8, raddoppio delle torri, e adesso se cavallo in C6, guardate che succede, torre in F8 con scacco vince la torre, e se cavallo in D7, scacco di torre, Re in D8, arriva la seconda torre, cavallo in F6, scacco di torre, cavallo in E8, la torre cattura e dà lo scacco matto, quindi, ritornando alla nostra partita, alfiere in B3 è mossa fortissima, e quindi, per questo non si era rincoglionito Nimzovic a non spostare la torre, gioca a B5, allora alfiere per torre, il pedone B ricattura, torre in F5, attacca il cavallo, come mai non giocherà G6, ma giocherà G5, Nimzovic, perché dopo G6, la torre, si può cambiare sul cavallo, il pedone G ricattura, torre in G8, e guardate che succede, il nero non può più giocare con i due pezzi, perché questa mossa di torre blocca entrambi i pezzi, non c'è controgioco sul lato di Re, entra in gioco il Re del Bianco, e per il nero ancora bloccato è finita. Ritorniamo a noi, allora dopo torre in F5, in qualche modo però questo cavallo bisogna salvarlo, allora arriva l'interferenza G5, che libera anche la casa G7, raddoppio delle torri sulla colonna F, arriva F6, e per F6 con scacco, il Re si porta in F7, non c'è possibilità, con il pedone anche in F6, di riattivare il cavallo, non c'è neanche la forchetta, finché rimane il pedone in H2, e allora arriva E4, il pedone sta avanzando, e guardate che formazione di pedoni passati, che stanno per diventare connessi, allora il cavallo si porta in F4, sacrificio di qualità, torre per cavallo in F4, rende la qualità in maniera fantastica, G per F4, arriva E5, guardate, non si può muovere il cavallo, perché qui non può andare, e non può andare neanche qua, e però che succede? non si può aspettare di fargli spazio, guardate che succede se il nero gioca A5, arriva E6 con scacco, Re in F8, F7, adesso si può sviluppare il cavallo, ma D6 è la mossa vincente, perché qui si va proprio a donna, e quindi, Nimzoic, in condizione disperata, cede il cavallo, perché cavallo in D7, permette la forchetta di pedone con scacco E6, Re in G6, F7, il Re cattura la torre, è perché qualcosa bisogna cedere, è questa la difficoltà di questo tipo di finali, perché per promuovere, in certi casi, bisogna lasciare indietro l'altro materiale, arriva E7, e quindi si promuove per forza, cavallo in F6, non si promuove in E7, si promuove, scusatemi, non si promuove in E8, si promuove in F8, allora, torre in E8, per quale motivo? Per non cedere una torre per la donna, D6, F3, la donna cattura in H6, F2, ora guardate come gli scacchi, come diciamo sempre, aiutano a portarsi nella posizione corretta, donna in H3 con scacco di Leonard, protegge anche la casa di promozione, cavallo in G4 si interpone, va benissimo, ed è forte anche, donna in G3 con scacco, ma tanto la donna tranquillamente controlla, questa casa F1, e allora arriva D7, e qui si promuove per forza, torre per pedone in E7, Leonard fa due donne, torre in E1 con scacco, una donna la fa pure Nimzovic, re in C2, torre in E2 con scacco, re in D1, mossa 40, Nimzovic abbandona, ma andiamo noi a giocare le ultime mosse, perché il nero può giocare lo scacco di torre in E1, il re si sposta, anche il nero fa la donna, ma non c'è più tempo, perché il bianco con due donne, ha già in mano il matto forzato, donna in D5 con scacco, se il re avanza è scacco matto con donna in G3, se il re torna indietro, donna in H8 con scacco, re in E7, e l'amicidiale donna in D8 scacco matto. Questa è una delle immortali di Leonard, e che bellissime partite vengano fuori se impariamo a giocare il gioco piano ed affrontare le varianti che il nero ci propone. Spero che la partita vi sia piaciuta, non dimenticate il like, non dimenticate di iscrivervi al canale, se vi interessano le mie lezioni, diventate abbonati a queste video lezioni, che oltre tutto hanno un costo molto basso, sono 3 euro al mese, io vi ringrazio di nuovo per l'ascolto, e naturalmente aspettando i nuovi grandissimi tornei, ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!